Ciao bambini! Siete pronti per svolgere attività motoria? Allora oggi vi propongo un percorso motorio che è simile a quello che avete realizzato la volta scorsa. Vi ricordate? Avete ritagliato le sagome dei piedi, in più anche avete utilizato i cerchi, i quadrati, i rettangoli e anche in triangoli. Invece al percorso di oggi quindi dovete aggiungere oltre alle sagome dei piedi anche dovete aggiungere le sagome delle vostre mani perché poi appoggiandole al pavimento alternando piedi a mani dovete collocare diciamo con la posizione giusta dove ci sono le impronte. le rispettive impronte. Quindi munitevi di carta, matica, forbici e anche il nastro adesivo così potete collocare l'adesivo sotto diciamo le sagome in modo tale che non si spostano quando andrete a svolgere il percorso. E vi farò vedere come sarà strutturato il percorso. Bene bambini, come potete osservare il percorso è stato strutturato in questo modo, quindi però è da precisare che questa è la prima fase cioè quella più semplice, più facile perché dopo successivamente ci sarà la fase un po' più difficile. Contiamo prima le sagome dei piedi. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Contiamo le sagome delle mani. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Quindi abbiamo dieci sagome di piedi e dieci sagome di mani. Cominciamo partenza dei piedi. Appoggiamo i piedi sulle sagome celesti e successivamente le mani sulle sagome delle mani. Solvoliamo le mani e appoggiamo i piedi sulle sagome. Appoggiamo le mani sulle sagome. Appoggiamo di nuovo le mani, i piedi e mani. Piedi e mani. Possiamo ripetere magari in modo più veloce. E adesso vi farò il vedere la seconda fase del percorso. Bene bambini, osservate con attenzione il percorso strutturato in questo modo. Come potete notare non troviamo più le sagome a coppia, e cioè piede e piede, mano a mano, ma le trovate distribuite in modo sparso. In più, mi raccomando, vi conviene mettere l'adesivo sotto la sagoma in modo tale che non si spostano, proprio perché questa è la fase più difficile. Quindi cominciamo. Pronti, partenza, via. Appoggiamo la manina destra sulla sagoma gialla e il piede sinistro. Andiamo avanti. Piede destro, mano sinistra. Come notate io non sposto il piede che è dietro, lo sposterò successivamente. Quindi mano destra e piede sinistro. Piede destro, mano sinistra. Due mani e ritorno. Piede destro, mano sinistra. È un po' difficile, un fucilotto. Mani. Piede sinistro. L'ultimo. Mano destra. Piede sinistro. Come avete visto, è più difficile otto. Lo possiamo ripetere. Bene bambini, adesso non mi rimane che mettervi a lavoro, quindi realizzare le sagome e svolgere il percorso. Mi raccomando, voglio vedere i vostri video. Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!